Assurda che il luogo di potenza è azzurro. Aprende il copertino di impianto. Presa il botone di cancela. Se il luogo di inca sta fiasciando o fuori, presa il botone di cancela per 6 secondi, fino a che il cartellino di cartellino si muove. Il cartellino di cartellino si muove nel medio del impianto. Il cartellino indicato da l'arrovo è azzurro. In questo caso, nero. Presa il botone di cancela. Se più di un cartellino di inca è azzurro, il cartellino di inca indica un altro cartellino. Inoltre, tutti gli cartellini di inca sono indicati. Il cartellino di inca si muove alla posizione di cartellino di inca. Usa il cartellino di inca. Aspetta, ci potrebbe essere inca inca sul porto di inca. Non lasciare il cartellino di inca molto tempo senza il cartellino di inca. Non rinnovate il cartellino di inca dal basso del cartellino. Inoltre, l'inca si muove. Inoltre il cartellino. Presa la presa fino a che clicca. Cerca il cartellino di inca. Presa il botone di cancela. Il cartellino di inca inca inca. Questo processo prende circa 1 o 2 minuti per completare. Non rinnovate il cartellino. Quando il luogo di inca resta di flash, il cartellino di inca è completo. Grazie a tutti.